Alziamo bene bene il volume e sentiamo. Lei non vuole nulla con te, è chiaro? Non sto proprio contattando nessuno io. Ci sta vivendo il bosso. Assolutamente. Ma se sto chiamando al numero che hai dato su Instagram, cosa credi che sono scemo? È perfetto. Non è possibile, non è il mio numero, non l'ho dato a nessuno, non sto contattando nessuno io. Allora cercati amici, impara a ballare o qualsiasi altra cosa, ma smetti di far capire le fidanzate degli altri, va bene? Ci sono così tante donne nel mondo. Ma non mi sto veramente scrivendo con nessuno in questo momento. Sicuro che sei di quelli che non hai il coraggio di parlare nemmeno con una ragazza in un bar, è vero? Guardi, forse stai esagerando, lei. Sei sicuro che menti come un miserabile che mi hai fatto su Instagram, no? Che cattivo! Guardi, veramente... Si sbaglia, contatti qualcun altro, cioè. Povero paga, dai. Finito? Ma che è successo? Sono rimasto in linea per più tempo. Dai, paga, si sarà preso malissimo. Perché il tipo alla fine ci andava giù pesante. Sei un miserabile, oh! Posso, posso... Aspetta, forse... Aspetta, eh. Aspetta, eh. Mo' gli dico, gli dico che lo voglio... Che ci voglio parlare. Se c'è, se c'è, perché non so se c'è. Vediamo, eh. Ci sei? Sì, c'è, 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 c'è. Ok, vediamo. Allora, vediamo qua. Paga, ma, eh, tipo, ti ha chiamato un tipo al telefono? Ma un tipo stranissimo. Ma l'ha detto anche a me, sto tipo. Ma... Ma chi è? Ma è uno youtuber. Ci hai provato con la sua fidanzata. Ma... Manco... Non ho capito proprio nulla. Io ho detto che, tipo, ci stavo provando, ci stavo scrivendo con la sua ragazza. Eh, mi ha scritto anche a me, io gli ho dato io il tuo numero. Ma... Sì, ma perché è un amico mio? Ma tu ci hai provato con una ragazza su Instagram? Ma c'è veramente... Io non ci sto provando proprio con nessuno adesso, cioè... Perché prima, pieno di ragazze, rivedo. Era uno scherzo, paga, sei un deficiente, dai. Ma ti... Oh, però... Ma eri tu? Sì! Cioè, non ero io, era una voce registrata. Però hai visto? Ti ha giocato alla grande... I dialoghi combaciavano. Ma io non ci ho capito. Ma perché all'inizio io li faccio. Ma chi sei? Eh, non ha risposto. E lì non mi rispondeva, continuavo col discorso. Perché era arrabbiato, no? Voglio un po' di sushi. Final day war wow. Voglio un po' di sushi. Final day war wow. Voglio un po' di sushi. Voglio un po' di sushi. Prendi... Voglio un po' di sushi. Prendi...